C'è questa bambina che stava vedendo uno spettacolo di teatro e improvvisamente la gente scompare, scompaiono tutti intorno a lei e rimane solamente lei, scompaiono tutti per questa forza oscura di cui non si sa niente, ecco infatti stanno dicendo che ci sono state molte scomparse al teatro E quindi 5 anni dopo, inizia il gioco, qualche tipo di evento eh, mi chiedo cosa stia tenendo occupato Toma, quindi immagino che dovrò girare un po' intorno alla, un po' intorno così, su base, alcune sono pure doppiate come line Hai gli occhiali infatti, quindi ottima caratterizzazione In pratica sto dicendo, Tsubasa non pensavo di, anzi, Itsuki non pensavo di trovarti qua, cosa ci fai qua? E Tsubasa ha detto niente, sto aspettando Toma E Tsubasa dice, oh hai sentito, Kiria, che è un altro personaggio, sta per fare un concerto in live al centro di Shibuya, tra un po' presto, non è fantastico? E faccio Kiria, chi è Kiria? Ok, la cantante che piace a lei È una delle più grandi artisti femminili in Giappone al momento Dovresti proprio ascoltarla qualche volta, ok me ne ricordo Ok Iniziando già le cose strane Ma io non posso dire nulla ovviamente Però la cosa si sta facendo più interessante Ma ora, adesso, arriviamo alla domanda più importante Tsubasa, per il tuo incredibile talento posso permetterti di vedere la tua amata sorella ancora una volta Che ne pensi? La verità è, che ho chiamato Miss Aya Oribe come nostro ospite speciale oggi Diventa lei un attino Ecco qua Che bello, mamma mia Beh detto, ho qualcosa di speciale per voi, per voi idioti Avrai quello che tua sorella ha già avuto Avrai lo stesso trattamento con la tua sorella, ecco Il pubblico ovviamente è spaventato Stanno morendo, smerendo, tutti piano piano Ok, voglio tutti i per forma da queste persone Noi non sappiamo ancora cosa sono i per forma Ma penso che il nome vi possa ricordare comunque qualcosa Che sta succedendo Tsubasa urla Non lasciatela scappare Tsubasa Roba molto anime Il gioco è tutto un po' anime Pizzuki aiutami E viene portata Non si sa dove Attraversa questo portale magico E tutti gli altri spiriti scompaiono Noi siamo gli unici comunque da notare Che non sono svenuti Proprio per questa cosa Nel petto Che ora ci è pure liberato da questo male Ok, attraversiamo il portale Cosa ci sarà dall'altra parte del portale? Una civiltà praticamente Troppo veloce Troppo scattante Ah ok, non è una Tsubasa Era veramente una ragazza Stanno Ecco qua Ah Ci sono Il tutto Non ci credo Cosa Il avecono Il anche Il anche Il anche Il anche Il anche Ah, poi vabbè, queste le scene animate sono le più belle ovviamente Sì, sono più che sicuro che i fantasmi nella versione preview non erano così tanto evidenti Non avevano i tratti caratteriali, quindi capelli, occhi Quindi molto carino questo cambiamento Molto Naruto o Dragon Ball questa cosa E lo spirito si trasforma e prende le sembianze di un guerriero Ora, cioè io rivedendo sta scena dico Mi spieghi come fanno a sapere che facendo Carnage Form si trasformano Vabbè, sempre roba anime che probabilmente gli è uscita dal cuore questa cosa e quindi l'hanno voluta dire Però l'emozione di quando si trasformano è veramente bella Veramente, veramente bella, lo stile è molto figo Beh dai, è il loro performa che ha preso sotto al vento, gli ha avuto coraggio Sì, certo, dandogli pure coraggio gli ha suggerito cosa dire probabilmente È un caso che l'animazione della ragazza duri tipo il doppio di quella del ragazzo Poi in seggiare vuol dire che sono molto più carini Dalla loro versione animata Allora se mi piace il più Anche a me Infatti, come ho fatto? Incredibile, ah una squadra che parla? Ciao Krikashow, benvenuti in mai Poi i capelli neri Con i colpi di luce blu Top Bello 60 euro solo per questo E parte il combattimento Allora Ora, probabilmente me lo spiegano loro Vabbè, me lo spiegherò io brevemente Attacco sono gli attacchi normali fisici Skills sono le skills, quindi le abilità Items sono gli oggetti Guard ti puoi imparare e recuperare EP Che sarebbero effective points, qualcosa del genere Sarebbero i punti magie in pratica Io non penso che farò delle skill comunque Magari sì, ve le faccio vedere alcune Anche i fantasmi hanno preso delle sembianze di mostri Ovviamente sono i mostri più scarsi del gioco Quindi non perderemo troppo tempo Ok Mi sa che adesso c'è il boss Allora io direi di fare il boss e poi chiudiamo Ok, il tipo dell'audizione Cida, dannata traditrice Hai cambiato lato, eh? Ti mostrerò quello che succede ai Traditori, appunto Eh? Ok Ci sta dicendo che adesso siamo diventati dei master Perché senti il nostro performa da qui Ovviamente il nostro performa sarebbe sia Chrome che Shida Lui sta un po' impazzendo Ed ecco che arriva Con una presentazione è veramente super in anime Perché in questa posizione? Scusate per il ritardo L'eroe qua è pronta a roccheggiare Ok Pronta a spaccare anzi Ok, adesso siamo in tre Quindi il pack è completo, possiamo dire E lui è il primo boss I boss dell'Atlus Sono sempre strani No sense E proprio perché sono belli Cioè lui adesso si è andato Per le bavilate in testa Si è incavolato Adesso è pronto Sì, è sicuro Arriva Toma con la moto Con una bellezza Toma è fantastico Il mio pezzo Del club praticamente Praticamente Infatti ora stai dicendo cosa Anche Itsuki e Tsubasa Lo sono dai maestri Sembra proprio così Voce di un uomo Probabilmente il suo performa Il tipo ridacchia Ma che diavolo Perfetto Altri mirage Ah è vero che i mirage Allora E' un po' complicato Ma che cosa Io ci ho messo un po' a capirlo Il performa E' l'energia Che hanno i uomini E permettono E appunto Il performa Permette A un'ombra Di trasformare in Di trasformarsi in mirage Quindi in miraggio Quindi i mirages Sono I persona In pratica Bene Ragazzi Abbiamo fatto questa bella Un'ora e Quindici Di live Sono molto soddisfatto di questo Spero di avervi incuriosito Almeno un minimo Per il gioco Che magari Derebbe una possibilità A Tokyo Ninja Session Soprattutto ora che è uscito su Switch Quindi per questo Per questa live è tutto Io vi ringrazio per la visualizzazione Bye bye Ciao